Nella terza puntata di Belve spopola Ilenia Pastorelli per la sua ironia e simpatia che ha travolto anche Lafagnani, facendola uscire dal suo personaggio per la prima volta. Sul web infatti molti hanno notato una Fagnani diversa dal solito che non riesce a trattenersi e ogni domanda sfocia continuamente in una risata. Ma chi è Ilenia Pastorelli? Ilenia arriva alla ribalta con Il Grande Fratello nel 2011 e subito dopo inizia a recitare. Nel 2015 nel film lo chiamavano Gig Robò di Gabriele Mainetti grazie al quale vince il Davide di Donatello. Nel 2022 recita da protagonista nel film di Dario Argento, Occhiali neri. La Pastorelli non è sposata ma in passato è stata legata ad un altro concorrente del grande fratello, Rudolf Mernone, conosciuto proprio dentro la casa. Al pubblico è piaciuta la sua intervista, reputandola addirittura la migliore mai vista. E tu cosa ne pensi? Cioè quelli fanno bonifici forti. Ma scusi no per fargli conti in tasca però adesso guadagna. Ma i bonifici non si rifiutano mai dai.